Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi faremo Minecraft Un po' troppo lentino E' finito Alex Vabbè Oggi facciamo la partita con Alex Troppo pieno Io voglio giocare Conezione al cervello esterno, perfetto Aspettate raga che iniziamo subito Ah io non ho detto però Guardate il mio primo video che ho fatto Prima di guardare questo Perché questo è il secondo Ovviamente iniziamo a giocare con Minecraft Visto che è stato il mio primo gioco Un, due, tre Bella aromatura Bella potentissima Un, due, tre No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. e che c'è andiamo? Dove me ne vuoi andare? Al paradiso? Al paradiso? Eh, ma che era? Andiamo qui sopra a cerchire un'arecchietta L'ho visto Guarda, mi stia rifugiando come un nappo! Vado, no 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 no! Comunque io mi comincio già a dormire. Con un giro di. Un giro di. Cosa c'è, mi riccio, mi riccio. Vecchiamo, mi riccio. faccio un altro pochino, lo faccio qua e mi faccio la corazza avete visto raga, raga questa è l'ultima comunque io vi ho visto già, oggi non posso fare molto, come vedete tanti compiti, no come non vedete e partiamo come dei razzi andiamo subito qua sempre sto lag qua bene raga se questo vi è piaciuto se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bella